Abbiamo la fortuna in questa vita di essere nati in un tempo e in un luogo, diciamo, di questo pianeta in cui viviamo sofferenze tutto sommato limitate, perlomeno limitate rispetto alle indicibili sofferenze che troviamo in altre parti del mondo oppure in altre parti del tempo o in altri regni, come ad esempio in quell'animale. E quindi la nostra mente che va alla ricerca di sofferenze evidentemente si trova sempre delle menate mentali, dei modi alternativi per soffrire. E' quello che la perversione, diciamo, più recente è quella dovuta ai social media e quindi soffriamo su WhatsApp o perlomeno a causa di WhatsApp e andiamo a piangere su Facebook. Infatti WhatsApp, questo social dove la privacy praticamente non è per nulla rispettato, perlomeno decidiamo che non sia rispettata. Le persone sanno esattamente quando siamo collegate, ci sono anche le statistiche che ci dicono per quanto tempo durante la fase della giornata una persona è collegata. E allora in cosa consiste la sofferenza? Consiste in mandare dei messaggi via WhatsApp e non ricevere la risposta. vedi che lui o che lei che ti interessa al tuo oggetto di desiderio è lì online e quindi probabilmente magari starà chattando, starà comunicando con un'altra persona e a te non risponde. Con tutti gli altri sì e con te no. E questo ti genera una sofferenza indicibile. Sono menate mentali assurde, ma le persone hanno questo modo per autoprocurarsi. E poi utilizzano l'altro social, Facebook, per piangere, per lamentarsi, per scrivere guarda sto qua, cosa mi combina, guarda questa, guarda quell'altra, io sono lì, la cerco, lei non mi cerca. Non rendendosi conto che paradossalmente, diciamo, più la cerchi e più questo o questa se ne va via, perché è inevitabile. La pappa pronta agli esseri umani non piace, o perlomeno una parte degli esseri umani non piace. Una nostra parte, che è quella logica, piacerebbe navigare in un mare calmo, ma la nostra parte emotiva ci fa navigare in un mare in tempeste. E allora, se questo volete, soffrite via WhatsApp e andate a piangere su Facebook. Godetevi queste nuove perversioni. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Ciao a tutti.